Pesaro battezza il Parapentatron muovendo un nuovo passo verso uno sport sempre più inclusivo che trova un punto di convergenza fra pentatron moderno e sport paralimpico. Un lavoro costruito passo passo dalla federazione italiana Pentatron Moderno che si concretizzerà al Campo Scuola di Pesaro dove domenica alle 14.30 andrà in scena il primo evento promozionale di Parapentatron nel corso dei campionati italiani Open, Junior e Under 17. Istituita la commissione consultiva sul Parapentatron, la disciplina presentata oggi in comune di fatto nascerà con la prima prova di Laser Run. In 83 anni di storia della federazione, una novità assoluta che a Pesaro ha trovato terreno fertile per germogliare. Era da un po' che ci riflettevamo, la difficoltà l'abbiamo sempre incontrata sul tipo di competizione che dovevamo e avremmo dovuto disegnare sulle singole discipline e sulla tipologia di gara. Ecco, adesso proviamo attraverso questa sperimentazione partendo dalla Laser Run che ci è sembrata la prova più semplice, quella più realizzabile nell'ambito dell'attività per diversamente abili. Abbiamo investito sul territorio anni fa creando il polo Facchini che adesso è gestito dalla VL in collaborazione con la nuova Ferrara. L'ha costruita la federazione italiana Pentatron, quindi questo è stato il tornare qui e qui ha anche un significato del fatto di avere sempre tenuto particolarmente in conto su questo territorio. Presenti a Pesaro non solo i vertici del Pentatron italiano, ma anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha applaudito in collegamento col municipio la novità del Parapentatron coltivata dalla consigliere federale pesarese Adriana Fabri responsabile della federazione per le attività rivolte e diversamente abili. È quasi un anno e mezzo che ci lavoriamo, siamo partiti dal nulla grazie anche a Piattaforma Solidale e alla mia federazione e a tutti i ragazzi che ci hanno seguito e abbiamo avuto un team tra la psicologa che è Filomena Patella e Michele Tottero un professore di educazione fisica, siamo riusciti a lavorare già da un anno e mezzo con i ragazzi che vedrete poi diciamo in manifestazione. Chiaramente è un mondo completamente, come ha detto anche il presidente, insomma esplorativo anche se secondo noi porterà delle grandissime soddisfazioni e ci stiamo lavorando tanto e penso che questo sia l'inizio soprattutto per Pesaro perché Pesaro ha una storia nel Pentatron moderno e oggi sinceramente partire da qui a me mi emoziona tantissimo. Decisiva nella nascita del Parapentatron anche il supporto psicologico alla disciplina sportiva rivolto a bambini e ragazzi. Diciamo che il ruolo di queste figure professionali come lo psicologo innanzitutto è quello di aiutare i tecnici sportivi a comprendere meglio quelle che possono essere le difficoltà o le particolarità dei bambini o dei ragazzi con disabilità soprattutto a livello intellettivo relazionale quindi parliamo di autismo, di sindrome di down, quindi far capire ai tecnici bene quali sono queste particolarità e come affrontarle, come adattare anche la pratica sportiva a questi bambini in un'ottica di vera inclusione quindi non dei corsi specializzati solo per loro, per bambini con difficoltà ma inserendoli all'interno di un gruppo dove loro possano essere appunto inclusi ed è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno appunto a Pesaro con i nostri corsi di pentatron e di attività adattate.